Fulvio De Lucis, sono nato nel 1946 e ho fatto due lavori. Uno al metalmeccanico per cinque anni e poi sono entrato nell'ospedale San Paolo come amministrativo. C'è tutto un retroterra prima di arrivare alle bombe di Savona che parte, diciamo, dal 67, il colpo di stato dei colonnelli in Grecia, dove diventa la palestra di addestramento dei gruppi neofascisti. Poi ci sono tutta una serie di passaggi storici e si arriva al 74 a Savona con queste prime bombe che ci lasciano perplessi, perché non riusciamo a capire perché a Savona ci sono queste bombe ed esplodono. E poi c'è la reazione della città e dei posti di lavoro. Io ho vent'anni nel 66, ovviamente, nel 68 ne ho 22. Comincia una stagione dal maggio francese all'invasione della cecoslovacca alle ruote degli studenti. Io sono uno che deve entrare a lavorare in ospedale nel 68, sostanzialmente. Perché non sono uno studente, ecco, in questo senso. L'autunno caldo l'anno dopo, nel 69, essendo un lavoratore dell'ospedale e con un cambiamento grosso delle confederazioni sindacali, che si costruiscono i consigli dei delegati, sono un delegato di reparto. E partecipo a quella che è la dialettica delle lotte politiche sindacali dentro l'ospedale. Io venivo dal Partito Comunista italiano, Federazione Giovanile, che ero stato in segreteria, poi Partito Comunista. Nel 1970 esco dal Partito Comunista di mia spontanea volontà e, assieme ad altri compagni, ci chiamavamo così allora, mettiamo sul gruppo politico del manifesto, il centro di iniziativa politica del manifesto, che non ha mai avuto un gran peso a Savona, ma era un gruppo politico che poi si confrontò e partecipò a tutti gli eventi fino a che non cambiamo nome fondando il partito che era il PDUP. Noi ci rapportammo in questa maniera con una sinistra storica ancora consistente e una nuova sinistra che, diciamo, portava avanti una serie di posizioni politiche e non riuscì mai a radicarsi a livello di massa, però c'eravamo e si partecipava. La Savona degli anni 70, partendo da questa data, insomma, è una città completamente diversa, la struttura sociale è differente, una struttura, diciamo, operaio-portuale, da questo punto di vista. Ha un tessuto politico differente perché ci sono partiti strutturati, organizzazioni che partecipano, per cui c'è una cultura in questa città anche dialeticamente contrapposta di dibattito politico anche feroce, devo dire, che però c'è una tradizione dietro di risposta, di lotta, che parte dall'antifascismo degli anni 20, arriva la guerra di liberazione e le grandi lotte operaie di Savona. È una città che comunque è già in smantellamento industriale. Basti ricordare le grosse lotte dell'Ilva degli anni 50, dove sostanzialmente passò la linea della ristrutturazione. Ma non solo quelle, c'è la Scarpa Magnano, ci sono altre industrie che gradatamente verranno smantellate fino al deserto che è oggi. Quando esplose la prima bomba a Savona, il 30 aprile del 74, noi eravamo nella sede del manifesto a prepararci per la manifestazione del primo maggio. Questa bomba esplose in centro di Savona, vicino alla casa del senatore Varaldo, e rimanemmo sorpresi, perplessi. Tieni conto che a Lastro davano un film di Lizzani, Mussolini, l'ultimo atto. Allora cominciamo a fare una serie di strani collegamenti che poi vedemmo che non quadravano. La nostra prima reazione fu quella di una provocazione. Lo stesso Partito Comunista allora ci diede la parola d'ordine di fare chiarezza e stare calmi, vedere cosa stava succedendo. Poi dopo cominciarono a esplodere le altre bombe e scattò la reazione della città. Noi eravamo nella sede, una sede che poi divenne unitaria quando facevamo il pedupo in via Famagosta, ma l'esplosione si avvertì. Non è che abbiamo visto da via Famagosta a quella zona lì, insomma ci sono tutta una serie di strade, di palazzi, eccetera, di impedimenti architettolici per capirci. Però la deflagrazione si sentì benissimo. Poi andammo a vedere e lì c'era già forse dell'ordine, persone curiosi, furono solo danni e non ci furono vittime. Ma noi andavamo 4, 5, 6, quanti eravamo, poi lì c'erano già persone varie, fino ad arrivare poi rappresentanti del modo politico e delle istituzioni. e non si riusciva a capire che cos'era questa cosa, che tipo di provocazione. Perché la fecero? Perché esplose lì? Si fecero delle congetture perché lì abitava vicino il senatore Varaldo, che era democristiano, e in quel periodo il clima che c'era anche nei gruppi della sinistra e straparlamentare, che so io, era fortemente antidemocristiano. Noi sentimmo una deflagrazione, eccetera, poi decidemmo che non era normale, non era normale, poteva anche essere una bombola del gas, che ne so, no? Comunque andammo per curiosità a vedere, invece ci dissero poi lì che era una bomba. Tieni conto che il clima di quegli anni lì, 72, 73, 74, era un clima dove in Italia c'erano parecchi attentati, ci furono. Eravamo vicini alle bombe di Piazza Fontana, anche se sono del 69, e vicino al 72 dove uccisero Feltrinelli e Calabresi. Cioè siamo in una situazione di questo genere, no? E dove correvano voci di movimenti nelle caserme, cose del genere. Per cui c'erano già gruppi della sinistra extraparlamentare, c'erano già le VR, perché a Genova nel 74 fu rapito Sossi dal gruppo 22 Ottobre, che poi patteggiarono, che sono poi i costruttori in parte delle Brigate Rosse. Per cui il clima era un clima abbastanza pesante dal punto di vista politico, dove non escludevamo niente noi, provocazioni di tutti i tipi in questo senso. Tieni conto che noi eravamo un gruppo della sinistra extraparlamentare. Ecco, non antiparlamentare, extraparlamentare. Per cui qualche preoccupazione ce l'avevamo. C'era un rapporto col Partito Comunista, che a Savona era una forza strutturata, veramente, che era conflittuale anche. Sì, dialogo in parte, ma era anche abbastanza conflittuale, con posizioni diametralmente opposte su quello che era la democrazia cristiana. Tu devi tenere conto che nel 73 Enrico Berlinguer fece la proposta del compromesso storico, dopo il colpo di Stato in Cile. Noi eravamo violentamente contrari a questa proposta, dicendo che era un dialogo senza avvenire. La capivamo dal punto di vista politico, ma non la accettavamo in questo senso. Quando si formarono dei gruppi politici in contrapposizione anche ai partiti ufficiali, che vennero chiamati sinistra storica, con tutta una serie di opzioni diverse da quelle che aveva un partito comunista ufficiale. Extra parlamentare semplicemente perché nel 72 non riuscimmo con Valpreda in lista a entrare in Parlamento. Ecco, per cui eravamo extra parlamentari in questo senso. Non eravamo contrari al Parlamento. L'unico gruppo a Savona che era antiparlamentare era quello che c'è ancora adesso, che è la lotta comunista. Quel mese lì fu subito di interrogativo, di sorpresa e interrogativo. Poi, quel mese lì di novembre si costituì poco dopo il comitato antifascista provinciale, preseduto da Speranza e da Urbani, uno dell'Ampia e l'altro di un'altra organizzazione partigiana. Noi ci rapportavamo subito con loro con posizioni leggermente differenti in questo senso, perché si cominciava a creare la vigilanza nei quartieri, cioè a presidiare il territorio, perché la gente aveva dei timori. Le bombe continuavano a scoppiare tra loro. Tra l'altro, quel periodo lì, il senso comune che avevamo un po' tutti era che erano bombe neofasciste, sostanzialmente, senza avere delle prove però. Solamente dopo, con un lavoro del libro di Macciò, si riuscì a capire, che è un libro tuttora venduto, che la prima fase di quelle bombe fu quelle di Ordine Nuovo. Poi dopo venimmo a sapere che erano avvertimenti fatti da apparati dello Stato, pezzi di servizi per sostanzialmente avvisare il ministro Taviani. Ma allora questa cosa non era molto percepibile. Forse i partiti ufficiali, diciamo quelli in Parlamento, avevano più notizie e informazioni, perché erano fortemente preoccupati, ricordo il senatore Urbani, o compagni Urbani, come si chiamava allora, che era a Lampi e presideva questo comitato con speranza, che era molto preoccupato di collegare i comitati di quartiere, la vigilanza non spontanea, alle istituzioni, in questo senso. Cosa che poi si fece, anche se continuò la polemica politica sull'autonomia della vigilanza o la collaborazione con le forze dell'ordine, anche perché la preoccupazione era veramente reale. Le forze dell'ordine si dimostrarono, e non per colpa degli addetti, insufficienti, non ti davano nessuna garanzia in quel periodo lì. Ecco, soprattutto quando si prese un po' visione, così da discussioni politiche, che c'era uno scontro nella Nato e negli apparati dello Stato. Io ho fatto la vigilanza non tanto nei quartieri, ma quanto nell'ospedale provinciale San Paolo di Savona, perché noi eravamo fortemente preoccupati di questa vicenda, anche perché eravamo un ospedale intanto, c'erano feriti e così via. Oltretutto il Consiglio dei Delegati, altri colleghi, eccetera, da discussioni che si facevano attivi, insomma si chiamavano così, formavano subito, quasi subito, a noi del manifesto eravamo molto d'accordo, un comitato antifascista di vigilanza in ospedale, coordinato anche con l'amministrazione che ci diede un aiuto grosso da questo punto di vista, facendo turnazione e vigilanza. Io personalmente partecipai alla vigilanza fino all'anno dopo, alla 75, quando misero l'ultima bomba, a turnazione ovviamente, esentati dal servizio secondo le modalità, no? E fu una vigilanza molto interessante perché, oltre a Corsi Italia, avevamo due padiglioni in Valoria, la Stengo e il Vigiola, che erano con un parco completamente aperto e dovevano farlo tutta la notte, la vigilanza. Mentre a San Paolo chiudevamo tutto, tranne tre punti, la fortineria centrale, il pronto soccorso e in parte l'obitorio, e con una fascia al braccio che aveva fatto fare l'amministrazione, controllevamo, si fa per dire, la gente che entrava, che usciva. Mentre in Valoria te la facevi di notte, te la facevi. Siccome io ero abbastanza giovane, insomma, si fa per dire, mi toccava sempre Valoria, in questo senso. E il personale che c'era allora reagì positivamente, molti si iscrissero alla vigilanza, no? C'erano ex partigiani ancora in servizio, c'era, insomma, poi collegati alle confederazioni, facciamo un grosso lavoro, secondo me, per tutto un anno, affinché non succedesse una tragedia, quantomeno nell'ospedale, nei quartieri la conosco meno perché ero lì io. L'unico collegamento che avevo diretto era col quartiere su in Valoria di Via Olivetta, perché alla notte si andava lì a prendere il caffè, il tè, no? Visto che loro avevano il falò e stavano lì fuori dall'ospedale, ecco. I partiti politici, tipo il Partito Comunista, il Partito Socialista, ovviamente cercavano al massimo di spingere sulla collaborazione con le forze dell'ordine e avevano anche delle ragioni, viste poi capite anche dopo, no? No, noi eravamo un po' più, come dire, estremisti, avevamo una grossa diffidenza, tanto del governo centrale, che era il quinto governo rumor, col PSI e il PSDI, no? Eccetera. E soprattutto non andavano avanti le indagini e con le forze dell'ordine, che erano insufficienti, ma dico non per colpa degli addetti, non ci garantivano nessuna prevenzione da questo punto di vista, infatti non a caso si organizzò in modo autonomo, poi qui si potrebbe specificare meglio la spontaneità della vigilanza, e ci organizzavamo in ospedale, insomma, a questo modo. Però noi eravamo collegati sia al sindacato che al comitato provinciale di vigilanza. Valoria era così fatta, c'erano due portinerie, no? Dove alla sera è una centrale termica, no? Che serviva per l'alimentazione, l'iscaldamento, eccetera. Al giorno c'erano degli addetti con la fascia che controllavano chi entrava e che usciva, insomma, col portiere, c'erano anche i due portieri, no? Alla notte chiudevano le due portinerie e a gruppi di tre o quattro, insomma, secondo la disposizione, si girava nel parco tutta la notte, no? Praticamente disarmati, no? Affinché qualche malintenzionato o delinquente, o chiamateli un po' come volete, non facesse qualche scherzo del genere di attentati. E ci furono degli episodi anche divertenti, no? Si fa per dire. Per esempio, uno dei coordinatori, che era il capo giardiniere, un ex partigiano, peraltro, purtroppo era deceduto, girava con la sua doppietta i palettoni, no? Aveva il porto d'armi, eccetera. Un altro che era alla centrale termica, altro ex partigiano, che poi andò in pensione pochi anni dopo, lui c'aveva il canelupo lì e la sua doppietta con i palettoni. Dice, se questi vengono io sparo, no? Noi invece ci eravamo disarmati, insomma, ci si collegava un attimo col comitato di quartiere, ma detto oggi, se capitava qualche cosa, non so cosa potevamo fare, veramente. Ecco, tenendo conto che avevamo a che fare con dei bombaroli e dei delinquenti. Ogni tanto veniva a fare un giro di ispezione, di ronda, portandoci panini, caffè e tè, un amministratore dell'ospedale, che era Leo Capello, possiamo fare anche i nomi, che era socialista, che era armato, perché lui aveva il porto d'armi e aveva un albergo a Spotorno, ma tutto lì era poi, ecco. Non eravamo molto addestrati, se andiamo a vedere. E forse dell'ordine, intanto passava una patuglia della stradale o dei carabinieri, tutto bene, tutto bene, poi finiva lì, ecco. Per fortuna è andato tutto bene, veramente. Io ero del quartiere di Villapiana. Il quartiere di Villapiana c'era la vigilanza, mi sembra, in due punti, se non ricordo male. Io non la feci lì. La gente era fortemente preoccupata, però non intimorita da non reagire. Ecco, e così via. Poi lì comincia tutta quella illuminazione che vedete ancora per Savona per fare luce, mettiamola così, no? La gente continuava la propria vita chiedendosi se ne scoppiavano ancora bombe, quando scoppiavano e dove scoppiavano e che cosa si faceva come forze dell'ordine per impedirlo. E apprezzava sostanzialmente questa autonomia, chiamiamola così, un po' conflittuale col Comitato Provinciale, di vigilanza dei cittadini che erano preoccupati perché bisognava portare i figli a scuola, bisognava, voglio dire, andare a lavorare e così via. La vita normale è di tutti i giorni, ecco, in questo senso. E si avvertiva questa, però non c'era rassegnazione. Ecco, si voleva risolvere questa questione anche con una specie, tra virgolette, di democrazia diretta. Ecco. Dunque, noi partecipavamo come gruppo del manifesto e fumo d'accordo. Poi fu una risposta di massa, come facevi a non essere d'accordo? Dovevi essere proprio un gruppettaro di quelli fasulli. Noi partecipavamo addirittura con la mia automobile e sopra montavamo delle trombe, no? Delle trombe dove facevamo dei comizi volanti con degli slogan e denunciando questi attentati fascisti, eccetera. E uno degli slogan che oggi può far sorridere, infatti fui anche ridarguito in questo senso, che dicevamo era benzina sì sopra la DC, perché avevamo una grossa diffidenza dei governi democristiani. Il mio gruppo, in questo senso. Ci rimproverò aspramente Giovanni Urbani su questo. Io ricordo una manifestazione di massa, ricordo i servizi d'ordine, ricordo gli slogan, ricordo che ci fu un momento molto unitario in questo senso. Ecco, dove noi ci riconoscevamo, ecco. E dove fumo molto tollerati, eccetera, e accettati, voglio dire, anche dagli altri partiti che pur critichevamo politicamente, ecco. Il servizio d'ordine sindacale era un servizio d'ordine molto efficiente. Poi c'era il servizio d'ordine mischiato con quello del Partito Comunista, dei partiti, perché poi molti erano Partito Comunista, erano sindacati, cioè avevamo diverse camicie, no? Adosso, come si diceva una volta, ed era un servizio d'ordine che era veramente funzionante. Ma poi non è che succedeva niente da questo punto di vista, perché c'era un momento di unitarietà in questo senso, pur nelle differenze, ecco, nelle differenze. Gli slogan che dicevo io e altri, insomma, violentamente antidemocristiani, eccetera, venivano tranquillamente lasciati dire dai compagni del Partito Comunista e dai compagni del Partito Socialista che pure erano a governo con loro, ecco. Lo scopo era quello che dice la parola, di tenere, di controllare, di tenere in ordine le manifestazioni ed evitare eventuali infiltrazioni o provocazioni. Il servizio d'ordine era semplice, io ero di un gruppo politico che non avevamo, quello del manifesto, proprio assolutamente, no? Non eravamo capaci nemmeno a farlo, no? Mentre invece potere operaio, avanguardia operaia, lotta continua ce l'avevano. Erano militanti di un'organizzazione politica e sindacale o tutte e due che con una fascia al braccio, eccetera, si organizzavano ai lati del corteo o dentro il corteo per controllare appunto che tutto fosse regolare e che non ci fossero, come dire, episodi che potevano andare contro la manifestazione e dare spazio a provocazioni di vario tipo, anche di tipo poliziesco in questo senso. Non è che fosse niente di eccezionale, doveva avere la gente per organizzare e strutturare il servizio d'ordine. Ovviamente si faceva qualche riunione preparatoria, ma voglio dire, il Partito Comunista, il sindacato su questo era attrezzato, era. Io ho fatto parte anche di servizi d'ordine della CGL in questo senso, ecco. C'erano dei servizi d'ordine che erano armati, da questo punto di vista, eccetera, di vari gruppi della sinistra e della parlamentare. Il Partito Comunista, il sindacato, eccetera, non aveva gente con bastoni, eccetera, eccetera. C'aveva gente che tanto si riconosceva, perché si conoscevano, ci conoscevamo un po' tutti, poi se andiamo a vedere. Avevano la fascia di riconoscimento, perché secondo le manifestazioni, a secondo doveri, dovevi un po' individuarti, chi e così via. Poi certo che dovevi andare a controllare, guardare, avere una certa acutezza per vedere se c'erano provocazioni, che potevano essere di gruppi che erano lì dentro o di Capanelli, che gridavano una serie di cose o incitavano ad azioni che non erano proprio quelle legali che volevamo tutti in questo senso. Come sono successe in parecchi posti a Milano, soprattutto a Roma e così via, ma erano altre dimensioni queste altre realtà. A Savona questa cosa qui era molto controllabile. Lo stesso gruppo politico che partecipava a lato, sempre in fondo, di lotta comunista, non andò mai a fare delle provocazioni per mettere in discussione delle manifestazioni, in questo senso. Ci furono episodi di questo tipo, ma poca roba di scontri su parole d'ordine, su slogan, oppure di essere più incisivi, dove il servizio d'ordine circoscrisse, eccetera, e li fece calmare, in sostanza. Sì, qualche spintone, qualche cosa del genere a Savona, oppure ti buttavano fuori dalla manifestazione. O comunque sia, se prima manifestavi delle posizioni che potevano essere estremamente pericolose secondo le posizioni politiche, non ti facevano partecipare. In Fona Savona, con un tessuto sociale diverso, allora ne usci bene. Al di là dei colpevoli non mai scoperti, eccetera, che questa non era responsabilità nostra. Perché reagì praticamente tutta la città, tutte le forze istituzionali, politiche, parlamentari o extraparlamentari, da questo punto di vista. E seminò qualche cosa, eccetera. Ecco, in questo senso mantenne una tradizione di reazione, di lotta e di partecipazione, ma tieni conto che le forze politiche, eccetera, erano più strutturate, non erano i partiti leggeri, per capirci, in questo senso. Certamente che dopo Savona si è modificata nella sua struttura sociale, eccetera, e quei periodi, quei momenti anche di partecipazione, credo che sia difficile che si possano ripetere oggi. Molto difficile, però lì seminò ancora un... e ricucì soprattutto un tessuto democratico che cercavano di lacerare. Allora, un primo obiettivo l'hanno raggiunto che si è dimesso Taviani, dal loro punto di vista. Un altro obiettivo di fiaccare, impaurire una città non è riuscito. Su questo non ho nessun dubbio, non è riuscito come non riuscirono poi altre azioni, tipo BR, eccetera, perché i cittadini, le persone, il tessuto sociale, in tutte le sue componenti reagì con varie motivazioni, ovviamente, no? Chi pensava di essere più rivoluzionario, chi invece teneva a essere più conservatore, ma questo non ha nessuna importanza oggi. E continuò a seminare comunque un tessuto democratico, che io oggi vedo molto più tenue e attenuato in questo senso, molto più individualistico. C'era ancora un senso collettivo, allora. Pur nelle differenze politiche anche feroci, no? Era bello anche litigare, insomma, sostanzialmente. Grazie. Grazie.